Un'iniziativa incentrata sull'inclusione sociale attraverso lo sport va in questa direzione l'attività sportiva della Nazionale Italiana di Calcio Amputati che dal 2 al 4 settembre preparerà a Pescara i mondiali che si svolgeranno in Turchia. Lo stage si terrà proprio nel capoluogo adriatico presso il centro sportivo di Via Imele. Questo raduno della Nazionale di Calcio Amputati che si prepara a Pescara per i campionati mondiali che si terranno in Turchia alla fine di settembre ci riempie di orgoglio. Abbiamo inclusione sociale, abbiamo lo sport, abbiamo l'attenzione ai temi della disabilità. Pescara si distingue sempre da questo punto di vista e mi piace sottolinearlo perché poi le comunità devono muoversi nell'ottica dell'inclusione e a Pescara nessuno viene lasciato indietro anche con esempi di questo genere. L'evento pescarese è stato curato dalla FISPES Abruzzo in collaborazione con la società calcistica dilettantistica Claudius Pescara. Una bellissima iniziativa, i ragazzi della Nazionale si prepareranno ai mondiali di Istanbul che ci saranno tra fine settembre e inizio ottobre. È il penultimo raduno in vista della preparazione a questa importante manifestazione. Saranno 18 i convocati e la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali per la prima volta viene a Pescara in Abruzzo a fare una manifestazione nazionale. Siamo pronti perché cercheremo di creare seguito attraverso anche iniziative locali. Grazie alla collaborazione con la Gladius 2000, un'associazione sportiva dilettantistica cittadina che gestisce il campo di Via Imele, nel centro di Villa del Fuoco, abbiamo questa struttura e abbiamo deciso di ospitare lì la Nazionale Italiana Calcio Amputati.